L'ospedale di Sapri insieme all'Istituto Clinico Mediterraneo di Agropoli, clinica privata convenzionata con l'ASL, sono le uniche strutture sanitarie del Cilento che si sono aggiudicate il bollino rosa per il biegno 2018-2019. Sono stati conferiti martedì scorso presso la sede del Ministero della Salute da Onda, l'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna, che dal 2007 attribuisce lo speciale bollino alle strutture che si distinguono per l'offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali malattie delle donne. Nell'anno del decennio sono state 306 le strutture sanitarie italiane premiate, 71 hanno ottenuto il massimo riconoscimento, 3 bollini, 183 2 bollini e 52 un solo bollino. Tra i criteri di valutazione la presenza di aree specialistiche di maggior rilievo clinico per le donne. L'ospedale di Sapri si è aggiudicato un bollino, in particolare per i servizi di senologia, ginecologia e ostetricia e l'adesione della struttura al progetto violenza di genere, attivato dall'Istituto Superiore della Sanità. A ritirare il riconoscimento conferito al Presidio dell'Immacolata, sono stati il primario della rianimazione Giuseppe Di Vita e il referente per il bollino rosa Gerardo Gallo. Due i bollini rosa conferiti alla clinica privata Mediterraneo di Agropoli. In Basilicata lo speciale riconoscimento è stato assegnato a due strutture pubbliche, l'ospedale San Carlo di Potenza e il centro oncologico di Rio Nero in Vulture. Ad entrambe sono stati assegnati due bollini. Quando Honda ha iniziato la premiazione dei servizi sanitari a tutela delle donne, nel 2007, erano 44 gli ospedali bollini rosa. A 10 anni di distanza sono saliti a 306, a dimostrazione che la sanità pubblica ha iniziato a dare maggiore attenzione alle malattie delle donne.